Nella giunta del 6 ottobre l'amministrazione di Vallefoglia ha approvato l'adesione alla rete RIDI, cioè la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazione per l'orientamento sessuale e l'entità di genere. L'adesione a questa rete nasce dalla volontà di mettere in atto delle azioni concrete e contro le discriminazioni, soprattutto nei riguardi delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali o transgender, che vengono riassunte nella sigla LGBT, che troppo spesso ancora nella nostra società vivono delle situazioni di discriminazione e di disagio sociale. Anche nel nostro territorio abbiamo avuto recentemente alcuni casi anche di attacchi violenti alle persone proprio per una discriminazione di genere. Chiaramente la finalità della rete è ad ampio raggio, nel senso che è importante mettere in atto delle azioni concrete contro le discriminazioni, ma è anche importante costruire questa rete a cui appunto fanno parte le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, quindi province, regioni, comuni, ma anche le associazioni che contrastano appunto le discriminazioni di genere e soprattutto anche gli organismi e le istituzioni di parità. Chiaramente le azioni sono azioni informative e informative sulla popolazione, ma anche sulle persone che debbono in qualche modo entrare a contatto e risviluppare delle azioni concrete, quindi sia rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni, ma rivolta anche al personale delle istituzioni sanitarie, ad esempio, oppure della scuola o delle persone che lavorano all'interno anche delle agenzie di formazione. Un altro campo su cui ci si rivolge è quello del lavoro, quindi fare degli eventi formativi contro le discriminazioni di genere sul mondo del lavoro. Ecco che concretamente l'adesione alla rete a redi comporta un confronto costante e continuo con le altre amministrazioni anche a livello nazionale ed anche a livello europeo, ma anche un confronto con le persone appunto che si occupano di questo problema, con le associazioni, con gli altri enti pubblici anche a livello locale, per cercare innanzitutto di fare un'azione di informazione sulla popolazione contro quelle che sono le discriminazioni e invece mettendo luce su quelle che sono le azioni di inclusione e di rispetto delle persone. Io ringrazio Rossini TV per avermi concesso questo spazio e parlare dell'adesione del comune di Vallefoglia alla rete redi, che da circa 14 anni riunisce tante pubbliche amministrazioni di tutto il territorio nazionale, quindi regioni, province e comuni impegnati nella lotta alle discriminazioni delle persone LGBT. Gli obiettivi che questa rete si pone sono quelli di promuovere delle politiche di inclusione sociale delle persone LGBT e di favorire l'incontro, il confronto fra le differenze che non vanno giudicate come una minaccia ma come un arricchimento di tutta la società. Quindi io ringrazio a gran voce l'amministrazione comunale di Vallefoglia perché ha dimostrato una grande sensibilità per i diritti civili e consentito al nostro comune di fare un grande passo in avanti in termini di civiltà. In tutto questo c'è anche una grandissima impronta dei giovani democratici perché è una battaglia che noi abbiamo sottoposto all'amministrazione e così è accaduto anche nei comuni di Fano, di Pesaro e a breve anche nel comune di Gabiccia. Quindi tutto questo è anche grazie all'impegno e alla forza propulsiva dei giovani democratici che ogni giorno sono impegnate sul fronte dei diritti civili. E noi aderiamo come Vallefoglia a questa questa rete proprio nella direzione di voler sensibilizzare i nostri cittadini contro ogni forma di violenza perché ricordo a malincuore l'evento dello scorso anno davanti al Colosseo di Montecchio quando un ragazzo omosessuale è stato menato e aggredito per il suo orientamento sessuale. Vogliamo promuovere un modello di società aperta, solidale, inclusiva e attenta ai diritti di tutti. In questi giorni dal centro-destra ci siamo sentiti dire di voler condizionare la vita dei bambini, di voler fare aggressioni ideologiche, addirittura di somministrare un farmaco che rallenta lo sviluppo dei bambini. Non c'è nulla di tutto questo perché il nostro unico interesse è quello di veicolare tramite iniziative, tramite momenti di confronto, dei messaggi positivi di una società che vuole essere inclusiva, che vuole respingere ogni forma di discriminazione, di violenza e di odio. è una società attenta verso i diritti di tutti. Quindi ringrazio ancora l'amministrazione di Vallefoglia e il mio auspicio è che tanti comuni della provincia di Pesururbino e delle Marche facciano questo grande passo di civiltà.